Buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi di One Piece. Diciamo che Oda è stato veramente geniale a donare al protagonista del suo manga dei power up che funzionano perfettamente con il tipo di frutto che possiede quest'ultimo. Secondo me è stato qualcosa di veramente innovativo, sì, anche l'ultimo power up è qualcosa di assolutamente nuovo, dobbiamo dirlo, è così, anche se a molti non è piaciuto, non possiamo dire che sia ridottante. A parte questo, dato che ormai il Gear 5 è stato finalmente mostrato nell'anime, avevo pensato di fare un video dove vi parlo di tutti i Gear di Rufy e spiegare in modo alquanto veloce come funzionano, ma ho parlato già troppo quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito. Rufy dopo aver subito una sconfitta totale da parte dell'ammiraglia Okiji decide di mettersi al lavoro per creare qualche tecnica che possa fare in modo di aiutare i suoi nakama per rimanere insieme a loro per sempre, e quindi stando a ciò nel capitolo 387 viene rivelato il Gear 2nd, che sarebbe una nuova tecnica che avrebbe cambiato lo stile di combattimento di Rufy, facendolo migliorare in una maniera esagerata. Essa funziona in modo da sfruttare al meglio il corpo di gomma del Mugiwara, infatti quest'ultimo usa le gambe come se fossero delle pompe, e così facendo fa circolare più velocemente il sangue dentro di sé, e ciò fa sì che il corpo si riscaldi facendo diventare la gomma più flessibile, ed essendo appunto un uomo di gomma il corpo riesce a sopportare tale pressione, e grazie a ciò il livello di velocità e potenza di Rufy aumentano notevolmente. È come se fosse un dopaggio naturale, diciamo così. Ovviamente dato che il corpo è molto caldo, in questa fase il sudore che fuoriesce diventa vapore. Luce afferma che il Gear 2nd accorci la vita, ma quella possiamo vederla come una pippa mentale del leopardo, quindi niente di confermato. Dopo il timeskip Rufy riesce ad usare il Gear 2nd anche in posti unici del suo corpo, e il metodo diventa praticamente istantaneo. Il Gear 3rd, comparso per la prima volta nel capitolo 403, ma era stato mezzo nominato nel capitolo 388, è una tecnica che Rufy utilizza quando vuole praticamente usare la forza bruta, perché alla fine quello è. Sostanzialmente il gommoso dà un morso sul suo pollice e grazie ad una ferita che si auto-infligge, immette dell'aria all'interno di quest'ultima gonfiando le ossa. L'arto che gonfierà diventerà grande quanto un gigante, e dato che sono state gonfiate le ossa, il braccio risulterà più duro rispetto al normale, e il colpo che verrà sferrato sarà di una potenza inimmaginabile rispetto ad un colpo dato in forma normale, diciamo così. Naturalmente nonostante la potenza, nel momento del gonfiaggio il Mugiwara è praticamente una preda facile, anche quando deve spostare l'aria da dentro al corpo. Inoltre, all'inizio, dopo l'utilizzo del Gear 3rd, Rufy si ripiccioliva, diventando molto più debole del normale, e quella piccola forma ha la stessa durata del tempo di utilizzo del Gear 3rd. Dopo il timeskip questo debuff app sparisce e riesce addirittura a gonfiare l'arto molto più velocemente di prima. Il Gear 4rd è sicuramente una tecnica incredibile, perché rispecchia perfettamente One Piece, dato che è sia buffa e sia potente nello stesso momento. Questa assurda tecnica Rufy l'ha creata durante due anni di timeskip, e gli è servita per contrastare gli animali giganteschi che si trovano su Ruzukaina, però anche questa tecnica ha il suo effetto collaterale, proprio perché dopo 10 minuti del suo utilizzo Rufy deve fermarsi e riposare per ripristinare il livello di Haki, ma può comunque usare i poteri del suo frutto. Il riposo è uguale al tempo di utilizzo del Gear Force, quindi 10 minuti. Nel manga abbiamo visto alcune forme diverse della stessa tecnica, ed ora ve le esporrò tutte. Il Gear Force Bounceman, comparso per la prima volta nel capitolo 784, consiste nel gonfiare i muscoli grazie ad una ferita che si autoinfligge, e nel medesimo istante ricopre il suo corpo con l'haki dell'armatura. Questa nuova tecnica aumenta esponenzialmente la potenza e la difesa di Rufy, e il nome Bounceman sta nel fatto che rimbalza costantemente, simil pallone da basket. Con questa forma del Gear Force, Rufy riesce a volare scalciando velocemente l'aria con le sue gambe, e per colpire più pesantemente l'avversario fa rientrare l'avambraccio nel braccio, così da aumentare ancor di più la potenza dei colpi, simil fiocina. Il Gear Force Tankman compare nel capitolo 842 e funziona in un modo diverso, perché il Mugiwara ha raggiunto tale forma dopo aver mangiato tantissimi biscotti di Cracker, e attivando la tecnica come se volesse fare il Bounceman, ha fatto fuoriuscire invece il Tankman, dove l'aria ha afflorito nel suo torso, diventando molto simile ad un lottatore di sumo. Grazie a queste scamotage la sua pancia riesce a resistere alle armi da taglio, e può anche inglobare le persone e spararle lontano subito dopo, come se fossero palle di cannone. Il Gear Force Snakeman appare per la prima volta nel capitolo 895, e questa forma è diversa dalle altre due viste in precedenza, perché Rufy alla fine non diventa più grosso, ma rimane pressoché uguale a livello di costituzione. Però in questa forma ha potenziato tutti e quattro gli arti, che sono coperti dal Lucky dell'armatura, e i suoi capelli stranamente si sono allungati un po' e si sono rialzati, somigliando tipo ad una fiamma, e le mani prendono una strana forma che se si osserva bene sembra un muso di serpente. In questa modalità Rufy ha una difesa più bassa rispetto al Bounceman, ma può attaccare l'avversario con colpi che man mano diventeranno sempre più veloci e sempre più potenti. Questo è dovuto al fatto che il gommoso può piegare le braccia facendo cambiare direzione ai colpi, che prenderanno sempre più velocità, quindi saranno sempre più rapidi, e il cambio di direzione improvviso donerà ai colpi un'imprevedibilità, e il nemico verrà colpito non sapendo da che parte arriverà il colpo. Il Gear Force Changed, chiamato da me così non c'è nel mango ovviamente, ma mi piaceva dare un nome a questa cosa, quei Rufy ha pieno controllo del Gear Force che riesce ad intercambiare tra le varie forme, e può tornare anche normale senza ricevere l'effetto collaterale, se naturalmente non sono passati i dieci minuti. Penso che questa cosa abbia fatto diventare Rufy più versatile negli scontri, perché poteva cambiare le forme in base alle strategie dell'avversario che si sarebbe trovato davanti. Sinceramente mi aspettavo altre forme del Gear Force, perché tre sono poche e penso che si poteva sfruttare ancora di più questa particolare tecnica, ma ormai con il nuovo Gear penso che non vedremo altre forme del Force, però incrocio sempre le dita perché non si può mai sapere. La forma like it by Rufy deve essere secondo me inserita, anche se l'ha usata una sola volta, come il Tankman d'altronde, ed è praticamente un'unione tra due frutti, cioè tra quello di Cappello di Paglia e quello di Moria. Questa forma appare nel capitolo 476, e in questa modalità Rufy appare diverso, infatti è una pelle bluastra, è grosso quasi quanto Gecko Moria, ed ha ottenuto un aumento considerevole della massa muscolare, nonché un cambio caratteriale, perché le ombre che ha ricevuto gli hanno influenzato la personalità. Infatti è diventato così mostruoso dato che gli sono state immesse dentro di lui ben 100 ombre, ed è riuscito a tenerle dentro di sé per 10 minuti grazie al suo corpo di gomma. In questa forma la potenza di Rufy aumenta incredibilmente e probabilmente supera anche il Gear 3rd. E non solo, diventa anche super veloce, forse anche più del Gear 2nd. Chissà, forse grazie a Nightmare Rufy che l'autore ha pensato il Gear 4th, questa è una pippa mentale, non c'è nessuna conferma, mi raccomando. Il Gear 5th è comparso per la prima volta nel capitolo 1044. In quest'ultimo scopriamo che il frutto di Rufy in realtà è uno zono mitologico Ito Ito modello Nika, quindi non è il Nika Nika, perché non è un paraviscia o un roja. L'aspetto del Mugiwara rimane lo stesso, ma cambia colore, infatti è completamente bianco, tranne per la fascia situata attorno alla vita. I capelli diventano tipo gommosi, le sopracciglia cambiano forma e si arricciano, ricordando parecchio la tiara dello scimmiotto di pietra, e gli occhi cambiano colore, diventando rossi. Anche il carattere del gommoso cambia drasticamente, diventando più giocoso e sorridente, questo perché durante il risveglio degli zoon la parte tra virgolette animale influenza il possessore. Comunque sia con questo risveglio Rufy può davvero fare qualunque cosa, e può cambiare la realtà, non che gli altri frutti non possano farlo, ma a quanto pare il Nika si basa molto sull'immaginazione del suo possessore, facendo diventare realtà quest'ultima, sempre nel suo mondo se è chiaro, tipo può gommizzare l'ambiente circostante ed usarlo come meglio crede, può anche gommizzare gli esseri viventi che tocca, e a quanto pare può anche cartonizzare le persone che si trovano in un certo range vicino a lui, ma questa cosa non è stata molto chiara, serve una spiegazione un po' più dettagliata da parte dell'autore. Inoltre Rufy grazie al risveglio può anche toccare i fulmini ed usarli come se fossero le saiette di Zeus, questo avviene perché dovrebbe gommizzare il punto in cui tocca il fulmine. Inoltre da come abbiamo visto ad Eged nello scontro con Luci, il Nika può anche creare oggetti dal nulla, basta che il suo possessore immagini una cosa e penso che la possa creare istantaneamente. Naturalmente bisogna ancora vedere il limite, anche se forse il vero limite è proprio l'immaginazione di Rufy, quindi tanta roba. Poi in questa forma è praticamente rivestito dal laki del re e dal laki dell'armatura avanzato. Inoltre Oda a quanto pare va pazzo per i Kongori Kishi perché se notate sia i vari Gia Force e sia i risvegli degli Zon che sono stati rivelati ultimamente, somigliano molto a queste divinità giapponesi. Che dire, penso di aver detto tutto, spero che questo video recap sia stato di vostro gradimento. Naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate del video, date un'occhiata alla descrizione per trovare tutti gli sconti per i prodotti a tema nerd, approfittatele mi raccomando, date anche uno sguardo al video uscito sul secondo canale, passate sul canale telegram di One Piece Unity e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.